Sì, sì, il video, il video. A presto, a presto, aspergo? Aspergo. Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri a me. Tanti auguri a me. Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Tanti auguri a me. Tanti auguri a me. Io non posso perché sono accendendo a cosa Sì, no, dico tu Quando è finito lo dici che c'è la cosa? Siamo a posto? Sì, questo è come le manine Brava! Sì, aspetta Bravissima Pure Gucci, strassini Venta! Vieni di mano Aspetta Vieni di mano E' brava, eh? Vieni di mano E' molto particolare Poi ho visto che le ha scritte a prima mare gli altri Allora, mi prendono le schiftezza Le schiftezza, mi prendono le schiftezza E tu quando dici un po' Mi mandi di saluto a tu qua Allora, a voi Allora, a voi Non c'è la mia cosa La mia cosa Non c'è la mia cosa Quando vedi a me Quando vedi a me Ma non c'è la mia cosa Ma non c'è la mia cosa Ah, ma non c'è la mia cosa Oh, basta, qua è se basta No, ma devo fare loro No, no, con i saluti Giovanni Patrò No, 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 no. Grazie a tutti! Sì, bello! Non è bello? Ah, per una fotografia che si deve... Solo il profilo, zio! No, solo il profilo con tutti quanti, vai! Riesci a acchiappare? Vai, vai! Vai! Sì! Anche io con quel rastolino! Sì! Eeeh! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.